Dopo che il TAR Puglia con un'ordinanza dello scorso 8 novembre ha accolto il ricorso del Comune di Monopoli contro la Regione Puglia Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 sull'esclusione del Comune di Monopoli dal FEASD che di fatto ha comportato anche la mancata partecipazione al FEAMP con impossibilità di adedizione GAL non si è fatta attendere la risposta dell'assessore regionale all'agricoltura Leo Di Gioia che ha ribadito che quei fondi non saranno persi poiché dopo aver fatto intendere all'Europa l'importanza della Puglia sarà riaperta la procedura per il bando Il bando di GAL ha una caratteristica che è stata quella appunto di essere tanto desiderato, tanto voluto e tanto spinto da parte di tutti quanti i comuni le amministrazioni che fanno parte di queste compagini societarie, dalle associazioni Oggi arriviamo ad un punto in cui si risolve una vicenda amministrativa, cioè prendiamo atto che i criteri indicati da Bruxelles erano limitanti per alcuni comuni della nostra regione e quindi a quei comuni rendiamo giustizia riaprendo di fatto la procedura e consentendo anche a loro di poter partecipare Questa cosa comporterà un paio di mesi di ritardo ma ci farà fare un salto in avanti nei prossimi mesi con un'attività che sarà un pochettino più armonica su tutto il territorio coinvolgerà grandi aree della Puglia e sarà spero uno strumento attraverso il quale fare sviluppo e innovazione cioè fare quelle cose che in agricoltura ormai sono diventate essenziali e che per la ruralità sono il cuore e il centro delle funzioni da svolgere